Nella seconda decade, e la parte successiva, un saluto a Giovi Di Conti che sarà con noi nella prossima edizione, ma con lui per i magnifici anni c'era il dottore della musica. Da questo momento girano i dischi per voi. Il dottore della musica, mister Sandro Grimov-Digeli. La musica, mister Sandro Grimov-Digeli. Grazie per la visione!